Cammina, cammina, si può andare lontano, molto lontano, è proprio il caso di dirlo. In questo caso si tratta di sport, ma soprattutto di fede. È l'obiettivo che si è proposto di concretizzare il presidente dell'Associazione di Camminatori, quattro passi in compagnia, il ragusano Fabio Di Benedetto, che domani darà il via a un'esperienza molto suggestiva. Prenderà parte al Cammino di Santiago di Compostela, il lungo percorso che i pellegrini fin dal Medioevo intraprendono attraverso la Francia e la Spagna per giungere al santuario di Santiago di Compostela, presso cui si troverebbe la tomba dell'apostolo Giacomo il Maggiore. Per un pellegrino, che anche uno sportivo come me, afferma Di Benedetto, è sicuramente il viaggio più importante. Percorrere quelle vie, infatti, non è solo un viaggio attraverso la Spagna, ma un modo per conoscere meglio quei luoghi percorsi da migliaia di persone che creano un effetto unico sugli individui. Lungo quelle strade tu stesso diventi il Cammino. Il Cammino francese, o Cammino delle Stelle, si sviluppa in circa 31 tappe, percorrendo 800 chilometri, che vanno da Saint-Jean-Pied-de-Pau, il punto di partenza, passando per Roncisvalle e Pomplona, fino ad arrivare a Santiago di Compostela, per poi concludere il viaggio percorrendo gli ultimi 80 chilometri fino a Finisterre. Questo è il luogo emblematico del Cammino, dove raccogliere la conca o conchiglia, simbolo del Cammino di Santiago, luogo in cui per tradizione i pellegrini dovevano bruciare le proprie vesti, con cui avevano percorso l'itinerario. L'iniziativa è sostenuta dalla rete di associazione I Petali del Cuore.